Ciao Fabio, a me è curiosito la vostra carta dei dolci, solitamente ci sono tanti esterischi, questo non lo mangiare, può avere il glutine eccetera eccetera, invece il vostro dice l'incontrario. Infatti noi abbiamo fatto questa scelta proprio per offrire ai nostri clienti un maggior servizio di fare tutti i nostri piatti, sia della carta sia per quanto riguarda i dolci, senza glutine. Per noi è un modo appunto per poter far venire alla nostra osteria quelle persone che hanno questo tipo di problematiche, facendoli mangiare tutti i nostri piatti dall'antepasto al primo al secondo e concludendo anche con i nostri dolci che tutti sono senza glutine. Ecco e so che studiate proprio il menù apposta, quindi non sono piatterie adattate ma c'è proprio in uno studio dello chef. Sono appunto studiati appunto per poter dare questa possibilità, nasce tutto dalla materia prima, quindi poter dare appunto la possibilità di far mangiare anche chi ha questa problematica i nostri piatti e le nostre speciali fraude. Bellissimo! Grazie! Grazie! Grazie!